Il rendimento della regione è favorire fortemente e persino contribuire a accelerare lo sviluppo di Catania in una fase difficile con i conti un po' pesantucci al comune e quindi io ritengo che la questione più importante sia cominciare a lanciare idee di sviluppo, di solidarietà, anche di lavoro. Riunione congiunta Catania della giunta regionale insieme a quella comunale. Tra Rosario Crocetta e Denso Bianco è il primo incontro istituzionale dopo le elezioni amministrative e la scelta di riunire i due esecutivi dimostra la volontà dei protagonisti di rilanciare i temi cittadini. La questione poi principale è quella di avviare aiuti per le imprese e quindi concretamente lavori che possono significare non soltanto attività per le imprese ma anche poi attività di lavoro concrete per tanti operai, ingegneri, giovani. È su questo che noi traceremo insieme le linee di una nuova programmazione anche che tenga conto certamente delle esigenze delle città e Catania è sicuramente una delle città che più di tutte vogliava attenzionare. Il più ottimista, l'assessore al bilancio Bianchi. Senz'altro il comune ha una situazione debitoria abbastanza ampia però assolutamente ricoperabile con un piano di rientro che è possibile fare, su cui anche c'è l'impegno della regione a aiutare il comune di Catania. Nel frattempo abbiamo e presenteremo oggi una serie di interventi per lo sviluppo che passa dalla zona Franche al rilancio delle politiche degli investimenti. Dal canto suo il presidente della regione ha dato la disponibilità piena e immediata ad aprire uno sportello nel quartiere di Librino con dipendenti ed esperti della regione del comune in modo che si passi addetto da una fase di generica predisposizione della zona franco-urbana a un lavoro di informazione. E quindi noi sosterremo fortemente le scelte di Bianco proprio perché riteniamo che i cittadini abbiano votato lui l'abbiamo contribuito anche noi a farlo votare però adesso lui è il sintaco e in Sicilia si dice che il Papa fa via e allora deve essere in condizione di essere giudicato per le scelte che fa e non per le scelte che gli impongono i partiti. Poi l'interesse sul teatro Bellini bisognerà arrivare, ha detto Crocetta, ad una gestione commissariale per permettere al teatro di tagliare ciò che non va e rilanciare l'attività.